Questo è un tavolo da stiro con un'ampia superficie, perfetto da usare con regolarità se si possiede un ferro da stiro con caldaia esterna a vapore. E la qualità è fantastica, ecco perché questo tavolo da stiro è dotato di una garanzia di 10 anni. Il tavolo da stiro è perfettamente stabile, possiede un ampio portacaldaia in metallo che si adatta alle caldaie di tutte le dimensioni standard, ma anche ai ferri da stiro normali. La pratica fodera di cotone ha uno strato in spugna elastica ed è stata prodotta in modo tale che rimanga sempre tesa quando è posizionata. Questo tavolo da stiro intelligente possiede un blocco di sicurezza che previene la chiusura accidentale, un dispositivo indispensabile quando si hanno dei bambini piccoli. Inoltre, questo blocco evita che il tavolo da stiro si apra quando non vuoi. Il piano di stiratura permeabile al vapore misura 124 x 38 cm. L'altezza può essere regolata in 7 diversi livelli, da 75 a 98 cm, e sono inoltre disponibili fodere sostitutive perfettamente adattabili e con decori di design. Grazie a tutti! Grazie.